ben trovati con il nostro appuntamento con Rack Magazine appuntamento settimanale che ovviamente raddoppia anche perché mercoledì tra qualche ora ormai la pallacanestro viola la demon musk trend scenderanno in campo per il turno infrasettimanale le giocherà via la my energy ormai è giusto chiamarla così col title sponsor in sella giocherà in casa alle ore 20 e 30 contro il sala con sirina formazione in netta crescita quarta forza del torneo mi sarà partitissima alla palacalafiore di reggio calabria alla stessa stregua abbiamo un basket trend a bocchetti emergere dalle zone basse di classifica dopo la sconfitta subita contro basket school giocando in casa contro una delle superpotenze del campionato che è diventata impattante in termini di classifica ovvero la siaz di piazza armerina di coach diamante i titoli di testa sono tutti per i bambini con i baffi un gruppo che non fa più notizia il gruppo rivelazione del campionato il gruppo della my energy viola reggio calabria gruppo ben allenato da federico cigarini anche lui allenatore rivelazione anche perché in pochi avrebbero scommesso alla sua prima esperienza senior in un atteggiamento così performante durante tutto questo andamento fino al momento i tifosi sono al settimo cielo uno dei momenti più alti degli ultimi anni del basket a reggio calabria e ovviamente in merito della società che ci ha sempre creduto anche nei momenti di down e sono stati tanti gli ultimi anni ricordando che per esempio la della passata stagione reggio calabria e capo di orlando sono retrocessi insieme a ragusa insieme al green palermo che poi ha deciso di ripartire dalla serie di domodossola e sta giocando con profitto in serie di con tanto orgoglio la formazione del capoluogo si è giocato il big match al pala fantozzi di capo d'orlando all'info tra i barina si chiama così questa è la nuova denominazione l'orlandina favoritissima prima in classifica insieme a reggio calabria a ragusa cede il passo alla forza di un gruppo letteralmente scatenato ne viene fuori una partita combattutissima strappo nel terzo quarto per reggio calabria protesta all'orlandina contro i fischi del duo arbitrali probabilmente la chiave arbitrale sarà una delle argomentazioni da cui fino al termine del campionato è possibile che la FIP vada a riaprire le liste anche perché il numero degli arbitri è sempre più magro anche rispetto agli altri gironi di serie di interregione quindi è possibilissimo che arrivino altri arbitri da altre categorie più basse ovviamente è chiaro che tutto quello che è successo a margine è un qualcosa di opzionale che va a distogliere dal titolo di testa la pallacanestro viola la my energy viola vince ancora con tanto i tifosi al seguito relegati in una parte alta del palafantozzi vince con l'orgoglio vince con la grinta e con una capacità cestistica realmente incredibile basta vedere allenare questi ragazzi giorno dopo giorno per toccarne con mano la crescita a guzzoli e sec straordinari ma è tutto il gruppo che ha risposto un gruppo che si è reso protagonista con un terzo quarto da sogno resistendo alla rimonta ormai classica della formazione paladina dell'ex domenico bolignano in campo c'è un altro ex come giulio mascherpa non è bastata la rimonta di capo d'orlando che perde e vola a questo punto al secondo posto in classifica anche perché come dicevamo nell'anteprima col paccio del piazza armerina grazie al tandem formato da reggino marco lagana e da palo rotondo che vince battendo la resistenza della virtus di ragusa tra le muramiche grossissimo segnale questo per una delle grosse deluse della prima parte del campionato per un piazza armerina che ancora secondo me ha tantissimo da dire a questo torneo ci guardiamo il servizio della partita dell'intervista a federico ciclarini e ad emi maveric nel mezzo c'è anche l'intervista estrapolata dalla tv ufficiale club paladino e al coach domenico bolignano e chiaramente poi torniamo per parlare ancora di pallacanestro viola una vittoria da quattro punti o forse anche di più porta bene il neo title sponsor lama di energy reggio calabria vince anche al palafantozzi di capo d'orlando successo brillante energico entusiasmante bellissimo che porta due punti che saranno utili nella seconda fase una vittoria che ribalta il risultato dell'andata e che isola in vetta in solitudine lama energy complice la vittoria della siaz piazza armerina in casa contro ragusa partita intensa il primo quarto è molto equilibrato partono ben i locali con un tonico 4 a 0 maximo vicino impatta e sorpassa reggio vola anche sul più 5 ma verrà rimontata dall'orlandina grazie alla tripla di marini 21 a 23 al termine del primo periodo molto bene in avvio maximo icbinelli e csl il secondo quarto a tutt'altra trama tripe prelibate di ticnic da un lato e gli asaitis dall'altro il team siciliano però ha molta più verb e spicca il volo 39 a 31 con i reggini che pagano i troppi errori ai liberi gatti firma il più 8 ma grazie a sec il secondo periodo si chiude sul 42 a 37 nel terzo quarto arriva la svolta dopo un breve periodo d'equilibrio la premiata ditta tirtisnik maveric a cuccioli e sec fa spiccare il volo alla my energy un rullo compressore che manda il tit avversario fattore campo il break è devastante il punteggio staziona sul 46 a 60 monologo ospite la tripla di maximo dice per il 50 a 68 agbortabi fa uno su due l'ultimo dentro della viola che chiude il quarto sul 51 a 68 attenti però alla sindrome da quarto quarto dell'orlandina più volte decisive stagione la rimonta arriva fino almeno 7 e reggio trema ma non si scompone e ritorna a macinare gioco ritmo e canestri il canestro più fallo di aguzzoli fa esplodere i tifosi e la viola arrivati sull'isola per l'occasione colpo da ex per federico cicatini e binelli e che colpo il cielo e nero arancio sopra cavo d'orlando un'impresa epica che evidenza ancor di più i meriti di un gruppo straordinario ben allenato affamato e vincente termina 74 84 coach federico cicatini una gara di altissima intensità fortissime emozioni la viola sbanca cavo d'orlando che gara è stata innanzitutto è stata una gara difficile i primi due quarti mentalmente eravamo troppo carichi sapevamo l'importanza anche perché questi due punti servono sia per la classifica di questa fase che per due punti per la prossima quindi quattro punti super una sfida pazzesca secondo me capo d'orlando viola penso che si sono fortunatissimo avvenne fatto parte mi ha fatto una gran vittoria sono stati sono stati questo è proprio solo dei giocatori tutta loro sono stati bravissimi sono stati responsabili a recuperare da solo da soli nel terzo nel quarto quarto hanno tirato fuori lo spirito di squadra di vittoria di appartenenza della città dell'attaccamento della maglia pazzesco ragusa perso siamo primi da soli non siamo felicissimi godiamoci la stasera da domani ricominciamo subito a preparare perché c'è già allenamento lunedì martedì per preparare mercoledì sala consiglina e poi tutti a casa che ce n'è un bisogno pazzesco coach in settimana molta intensità da parte del pubblico reggino c'era grande attesa per questa partita abbiamo risposto abbiamo risposto e questa è dedicata alla città dedicata a my energy come nuovo super mega sponsor della viola quindi adesso d'ora in poi sarà my energy viola reggio calabria questa vittoria la dedichiamo tutta la città e il primo posto lo dedichiamo a tutta la città tutti i tifosi vi aspettiamo mercoledì assolutamente prima delle vacanze un'altra partita importante sono due punti per la fase dopo vi aspettiamo numerosi e so che non mancherete grazie coach ciao una partita dove primi due quarti siamo riusciti a avere due cambi di guida erano riusciti ad andare in vantaggio negli spogliatoi sapevamo di un ritorno sicuramente da parte loro che c'è stato effettivamente il terzo quarto loro erano in gas sono riusciti a trovare canestri anche aperti e pur vero che però nel terzo quarto hanno tirato 17 di liberi che sicuramente tanta roba in modo qualmente vorrei andare a ricontrollare meglio il regolamento tecnico forse non lo conosco bene visto che siamo riusciti a fare tre falli in attacco e canestro con il difensamento lo smile sicuramente dobbiamo provare da questa sconfitta a trovare sicuramente le cose che non sono andate ribadisco ripartirei dal terzo quarto sicuramente dall'intensità difensiva del terzo quarto dallo smarrimento per alcuni minuti sicuramente in situazioni offensive ribadisco non possiamo farci sicuramente condizionare anche da quello che succede in campo non possiamo farci condizionare da fischi che effettivamente sono molto dubbiosi però fanno parte del gioco sappiamo noi domenica dobbiamo affrontare la squadra no forse una forse due squadre non è uguale guarderemo ribadisco dentro dentro le nostre cose per cercare un attimo di riprendere il percorso rimaniamo ancora in vetta in quelli che sono gli scontri diretti a quattro in questo momento per il proseguo abbiamo perso questo primo posto attualmente fittizio della classifica proveremo sicuramente a rifarci Emil Maveric una partita importantissima una vittoria che fa punteggio e fa morale che gara è stata in gara sicuramente tosta abbiamo dato tutto quello che avevamo e l'abbiamo portata a casa una squadra esperta siamo molto contenti la tua tripla nell'ultimo quarto a quattro minuti 53 dalla fine con capo d'orlando al sul meno sette ha sicuramente ridato ossigeno la viola e quella spinta in più e diciamo tanti episodi hanno deciso una partita io mi sono sbloccato lì ma in difesa sapevamo che dovevamo essere duri con loro perché alla fine in attacco poi non vuoi segnare in difesa era una squadra che subisce meno i punti di tutti quindi dovevamo farci trovare pronti in difesa più che in attacco in attacco prima o poi segnavamo sapevamo erano convinti di questo e alla fine è successo così un pensiero su questi tifosi oggi numerosissimi a capo d'orlando mercoledì si torna a giocare in casa con il vostro pubblico mercoledì è ancora lontano però tifosi grandiosi oggi oggi io non so forse io non in casa non me ne accorgo ma oggi forse in questo casino in una partita tanto aspettata tanto tesa mi sentivi tanto ci hanno dato con la spinta perché la maggior parte delle persone li conosci anche e sai quanto ci tengono personalmente li vedi per strada li vedi al palazzetto li vedi ovunque poi ti giri e li vedi non so quanti erano però comunque si sentivano tanto poi ti giri verso loro e dici posso spingere oltre i miei limiti si giocherà ancora dunque in questo 2023 non finisce qui anche perché mercoledì come accennavamo c'è una gara importantissima contro una squadra in forma il sala con silina che vince anche la partitissima contro il milazzo tra le muramiche con l'argentino fraga e l'ex cananzaro giovele moretti sugli scudi confermando il brutto momento degli svincolati milazzo anche lei tra le deluse di questo torneo per quanto riguarda renne invece la bim boom avrà l'opportunità di riscattarsi della brutta sconfitta subita in casa la basket school messina contro piazza armerina perciò tostissimo si giocherà al pala 4 miglia i ragazzi per polo carbone cercheranno facendo leva sul fattore campo di provare insomma a rialzarsi per quanto riguarda renne c'è stata una novità di mercato importante è andato via ajrovic che dovrebbe trovare collocazione a qui a breve e invece è ritornato l'ottimo esterno stefan malchic giocatore può giocare praticamente quattro ruoli può giocare anche vicino a canestro e che ha viaggiato tra puglia e toscana e l'ultima parte di questo campionato malchic conosce bene l'ambiente potrà sicuramente dare una marcia in più alla formazione del coach carbone per quanto riguarda invece le altre novità il cus catania si rafforza per vincere lo sconto salvezza inserendo l'etneo giorgio guadalupi ex basket school e piazza armerina non basta il suo ingaggio anche perché il castanea di danni baldaro tira fuori l'orgoglio e vince lo sconto salvezza con incitti in assoluta evidenza castanea attivissimo anche i sul mercato complici le partenze e gli infortuni ci trasferiamo alla serie c unica brindano tutte e tre le formazioni calabresi partiamo al big match anche perché l'alfa catania con super budris super lucio abramo si inseria da sola in solitudine sulla retta della classifica posizione omologa alla pallacanestro viola vincendo il big match contro olimpia comiso comiso rimane al secondo posto al terzo invece una canzaro straordinaria scatenata i ragazzi di salvatore e procopio chiudono i migliori dei modi il 2023 vincendo sul campo difficilissimo come quello di svincolati milazzo allenati dal reggino iliano sant'ambrogio sorrisi alla domenica per le reggine entrambe vincono i ragazzi della dr di pepe cotroneo che si rialzano dopo la sconfitta di giarre gara dominata dopo un primo quarto sotto in doppia cifra contro il cus di palermo il capitano luca lagana è realmente straordinario idem daniele greco il recuperato barrile un gruppo che ha risposto con tonicità molto bene anche gli stingers che dovevano fare a meno del capitano marco costantino e vincono tra le muramiche del palacalafiore contro il giarre magarinos ormai non fa più notizie sui 35 punti sono ormai una consueta un consueto avvenimento domenicale per il re dei marcatori del campionato molto molto bene antonio smorto ben supportato dal recuperato o quasi recuperato ed in pandolfi complimenti a loro una vittoria che dà morale due punti in classifica fondamentali per la corsa alla salvezza si rialza anche peppino goguzza punto importantissimo in trasferta per il caltanissetta che vince sul campo del gela momento magico per la reggio è arrivata una sconfitta preventivabile contro una delle candidate al successo finale il santo stefano formazione marchigiana che mira altri colore però al termine della gara si può festeggiare anche perché dagli altri campi è arrivata la matematica per il terzo posto che significa playoff qualificazione matematica con tantissimo anticipo anche perché non siamo neanche arrivati a natale tutto oltre le previsioni e ci guardiamo in servizio e l'intervista al coach Antonio Cugliandro sconfitta preventivabile per la farmacia pelicano reggio bic la reggio passa la quotatissima santo stefano il primo parziale si segue col 18 al 31 a favore gli ospiti un quarto che ha visto la formazione marchigiana giocare una difesa a tutto campo che ha inciso moltissimo facendo avere un margine di 12 punti sui reggini e il secondo quarto la reggio bic si fa sotto piazzando un 4 a 0 di parziale risposta dei marchigiani però è subito pronta la seconda frazione di gioco però si chiude sul 30 a 50 a favore del team ospite la reggio bic proverà con tutte le proprie forze a contenere una delle candidate altri colore una mai doma santo stefano tra un canestro dell'altro la sfida termina 52 82 con bezzetti assoluto protagonista con 25 punti accanto ai 21 di de miranda per la formazione ospite nonostante la sconfitta arriva però la leta notizia della matematica che consente l'accesso al playoff da terza classificata con ben due giornate anticipo al termine della stagione regolare un 2023 da incorniciare col settimo posto su 12 nella passata stagione il secondo posto al turno preliminare di euro cup alla prima partecipazione in assoluto e adesso la terza posizione in stagione regolare con già la matematica qualificazione al playoff ancora prima delle festività natalizie insomma un bottino niente male in questa stagione regolare per la reggio bic esprimendo un bel gioco con tanti giovani in campo è riuscita a raggiungere un grande traguardo e farsi un bel regalo di natale è un po il canovaccio che avevamo raccontato nel pre gara era una sconfitta preventivabile ma è arrivato anche un lieto risultato degli altri campi è arrivato un ottimo risultato stagionale per questa prima fase partiamo dalla sfida com'è andata innanzitutto prima di di arrivare alla sfida volevo fare un sincero ringraziamento a fortunato serrano e l'onora megale che ci hanno permesso di poter disputare questa partita perché magari non lo sanno in pochi prima ieri sera proprio prima della partita è scoppiato un tubo dell'acqua a qualpa la calafiore e si hanno avuto veramente una grande organizzazione sono riusciti in tempo record a sistemare tutto quanto a pulire perché era pieno di fango e ci hanno permesso di poter disputare questa partita e quindi già partiamo al presupposto che era non era scontato poter disputare questa partita e grazie al lavoro di tutti ci siamo riusciti la partita lo sapevamo è stata una partita difficile perché comunque sento stefano è una squadra importante in italia appena vinto la supercoppa italiana gioca sicuramente per per lo scudetto però abbiamo visto comunque che abbiamo a tratti abbiamo fatto un bel basket è stata una partita divertente sicuramente da vedere perché entrambe le squadre giocano in maniera dinamica sia noi che loro abbiamo un tipo di 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 gioco molto molto aggressivo molto fisico allo stesso tempo molto dinamico fatto di transizioni e difesa press è stata una partita comunque difficile perché loro sicuramente hanno giocatori ancora più fisici dei nostri sono abituati perché lo fanno da più tempo hanno giocatori sicuramente di di livello superiore noi siamo una squadra forse ancora un po troppo giovane in esperta però sono queste le partite dal quale si deve imparare e prendere spunto piccolo bilancio anche perché è arrivato questo traguardo della pubblicazione alla post season all'inizio del campionato era il micro obiettivo il micro sogno diciamo così esattamente era innanzitutto appunto un sogno perché non era assolutamente scontato che potessimo raggiungere questo questo traguardo e soprattutto eh diciamo tra virgolette così eh presto perché ancora prima di di Natale già eh abbiamo questa possibilità di poter festeggiare eh la qualificazione playoff eh sì è stato il bilancio diciamo è sicuramente positivo perché eh i ragazzi non solo sono sono felici sono per per l'obiettivo ma eh stiamo giocando bene abbiamo un bel gioco ci si stanno divertendo stiamo dando spazio a tutti eh come si vede anche dai tabellini siamo una squadra che che porta quasi ogni partita tutti al referto eh e questo è l'importante perché non solo eh riusciamo a raggiungere gli obiettivi ma anche facendo un bel gioco grazie mille capitolo di R1 eh vittoria preventivabile per Pollino che risparmia un po' di energie vincendo contro la bim boom e si consolida in vetta idem a centodiciannove punti realizzate della cististica gioiese che vince sul campo del cananzaro con un ciccio russo a forza trentotto derby reggino alla vis che vince di un soffio contro una super combattiva botteghelle vis con giocata un bel po' complici diversi rimbi e riesce a vincere grazie a un bel canesso di Fabio Freno molto bene Galimi e Morabito contro una botteghelle finalmente ritrovata grazie all'asse Triolo Mazza Cimino Malavenda per quanto riguarda invece l'altro derby basket pello che si fa volere tra le muramiche straordinaria la cornice di pubblico del pala CSI il pala color con tanto di brigate pellaresi un manipolo di ragazzini un gruppo giovanile che con forza indomita ha sostenuto Vianise e compagni nell'arco di 40 minuti partita godibile contro il soccorso quasi sempre nelle mani dei ragazzi di Armando Russo che continua a far bene ha completato un suo tour personale abbastanza importante e vincente ha vinto al CSI con la forti copella dal venerdì al palmi è stato il colpo del campionato del CSI successivamente ha vinto anche in under 15 col suo bagnara ricordando che allena anche la selezione costiera e poi si è superato appunto vincendo con grinta nel campione di serie D il big match invece lo vince il Soverato che sfrutta l'assenza di Roderico Monier e spugna il campo del Pianopoli molto bene fallo molto bene Riziano Gallo per una formazione quella di Fabio Pirillo che ancora tantissimo a dire al campionato è veramente tutto noi torneremo ovviamente con gli aggiornamenti post ehmai energy sala consiglina e post ovviamente bimbo basketland e piazza armierina anche perché il campionato diventerà sempre più elaborato ci sarà dopo il giorno di ritorno una seconda fase molto avvincente incrocio con l'altro girone successivamente ancora play off e play out insomma ci sarà tanto da discutere e argomentare sul mondo della pallacanestro un caro saluto e alla prossima